Oggi siamo qui come sempre per cercare di migliorare le nostre fotografie, ma questa volta non andrò a esaminare uno dei vostri portfolio, bensì andrò a post-produrre una delle vostre immagini. Questo è un nuovo format che vi metto a disposizione. Se voi mi mandate un'immagine in RAW di NG o altro formato di negativo digitale, io andrò a farvi vedere quello che farei io per post-produrre questa immagine. Me la mandate come sempre con un messaggio privato su Instagram e con un link che non scade, perché io voglio poter accedere quando voglio io, quindi magari anche tra 20 giorni, visto che siete in tanti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Nel corso di questi video cerco di aiutarvi a migliorare come fotografi e quindi oggi andremo a vedere una fotografia che mi è stata mandata da uno di voi e io andrò a post-produrla attraverso il modulo di sviluppo, in questo caso di Camera RAW. Magari nel corso di questi formati alterneremo anche altri software come possono essere Adobe Lightroom o Luminar Neo. Prima di cominciare io ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale cliccando il bottone qui sotto perché continuo a vedere dalle statistiche che solamente il 40% di quelli che guardano i miei contenuti sono effettivamente iscritti, quindi c'è un bel 60% di persone che ancora non hanno cliccato il bottone qui sotto. Ok, eccoci qui all'interno del modulo di sviluppo, come potete vedere abbiamo un bel micione, leoncino che mi è stato mandato e come potete vedere abbiamo un Instagram che secondo me è migliorabile. Innanzitutto andiamo a vedere i profili, andiamo a vedere con i profili colore se esiste qualcosa che rende meglio, per una foto di questo tipo forse paesaggio potrebbe essere il migliore. Andiamo a vederne giusto un paio come lo standard, ma sì paesaggio credo che sia quello su cui ci fermeremo. A questo punto io vado a toccacciare un po' i fader per cercare di tirare fuori un'esposizione come la voglio io, questo è abbastanza empirico, non ci sono trucchi, non ci sono inganni qui, cerchiamo semplicemente di trasformare la fotografia e di renderla più uniforme e di ottenere l'effetto che vogliamo. Secondo me questa foto era livemente sottoesposta, il che ci sta, perché sottoesponendo salvaguardiamo le alte luci, quindi come scatto di per sé va anche bene. Vediamo che è stato scattato con una EOS 60D, mi pare di vedere. Andiamo a toccare un po' la temperatura colore, vediamo che cosa succede, perché vedete che qui possiamo fare delle modifiche anche drammatiche, andiamo ad agire anche sulla tinta. Io cerco di non cambiarla mai troppo, però effettivamente vedete che se facciamo delle cose drastiche la foto cambia di tanto. Se facciamo delle cose minime otteniamo dei mood diversi che però sono tutti validi bene o male, quindi qui non c'è un giusto o uno sbagliato secondo me. Cerchiamo di ottenere qualcosa che sia soddisfacente per noi, anche un po' personale. E a questo punto secondo me come sviluppo digitale ci siamo anche, quindi una cosa che possiamo fare, possiamo andare a prendere un pennello, perché adesso quello che voglio fare è andare a selezionare un soggetto. Questa è una nuova funzione che è stata introdotta che vi dirò che a me non piace. Io preferivo andare a pennellare semplicemente con il mio pennello, però visto che c'è questa funzione disponibile che più o meno ti becca già il soggetto, la usiamo. Poi a me quello che non piace è che spesso e volentieri te lo sbaglia, quindi preferivo farmelo io a questo punto. Adesso invece devo andare a fare tutte queste correzioni che poi non vengono più come una volta, perché anche i pennelli non sono più quelli di un tempo e quindi secondo me si stava meglio prima. A questo punto una volta che abbiamo fatto la nostra selezione, quello che andiamo a fare è che andiamo a cercare la texture che io non mi ricordo dov'è. Comincerò con l'aumentare un pochino l'esposizione e nel frattempo cerco di ricordarmi dove hanno messo la texture all'interno del pannello, dei pennelli. Facciamo due ritocchi per tirare fuori il nostro soggetto in maniera tale da renderlo ancora più evidente. Deve essere qui su effetti, sì, ecco texture. Quindi se io vado ad aumentare la texture, ho aumentato la texture, adesso avendo creato un nuovo pennello, ok, questo mi piace di più. Posso andare a pitturare con la texture solamente sull'area che mi interessa. Quindi seleziono un pennello e adesso facciamo un'altra cosa. Adesso andiamo a creare un pennello con la texture e la chiarezza diminuite invece. Vedete ne abbiamo creato uno nuovo, adesso io ingrandisco e vado a pitturare intorno. Quindi prima ho aumentato la texture sul mio soggetto, adesso vado a diminuire le texture e chiarezza su tutto quello che sta intorno. In questa maniera cerco di fare in modo che l'occhio del nostro osservatore vada diretto sul soggetto perché gli tolgo altri elementi di disturbo che possono esserci in altre parti. Ok, a questo punto che cos'altro possiamo fare? Vediamo un po'. Io vado a creare una sfumatura radiale, questa è un'altra cosa che non uso mai, però in questo caso vi faccio vedere un po' di cose, visto che la foto non è mia, cerco di fare più cose di quelle che farei normalmente per cercare di enfatizzare questo soggetto. Se fosse mia la foto, tutte queste cose, attenzione, non le farei. Cerco di fare, sto cercando di strafare, visto che la foto non è mia, in maniera tale da farvi vedere cose. Allora, io qui non mi ricordo più come si fa a invertire il nostro filtro radiale, ma se mi date qualche secondo mi torna in mente. Probabilmente qui sì, ecco i tre puntini inverti maschera l'hanno complicato tantissimo, era così facile una volta, tutta questa roba, io onestamente non ne sentivo il bisogno, però visto che c'è ve la faccio vedere. Abbiamo creato un gradiente, l'abbiamo invertito, una sfumatura radiale, l'abbiamo invertita, quindi adesso quello che faccio avrà effetto fuori dalla mia selezione e non dentro. Quindi io vado a diminuire texture e chiarezza, devo cercare di non esagerare, perché se esagero poi l'effetto diventa... e adesso un'altra cosa che faccio, vado a togliergli un po' di luce e potrei in effetti, forse potrei anche inserire qualcos'altro, tipo una vignettatura, perché qui il mio obiettivo è cercare di mettere l'attenzione massima sul soggetto, perché è un soggetto che si confonde molto, i leoni si confondono con l'ambiente circostante, lo fanno apposta e quindi io tramite tutte queste accortezze, sto cercando di tirare fuori il soggetto, di farlo risaltare rispetto a tutto quanto il resto e lo faccio rendendo più evanescente tutto quello che c'è intorno. Per fortuna il soggetto è bene a fuoco, quindi non dovrei avere particolari problemi. Giochiamo un attimo con questa vignettatura e vedete che il nostro leone si presenta anche bene. L'effetto che abbiamo ottenuto è questo, chiaramente la vignettatura è troppa o esagerato, però è per farvi vedere come faccio quando voglio cercare di tirare fuori un soggetto che comunque non viene fuori bene perché si mescola molto. Una cosa che possiamo provare a fare, forse, è di croppare l'immagine per andare a dargli una composizione un po' più forte e lo facciamo cercando di posizionare il leone, che poi non so neanche se è un maschio o una femmina, forse è una leonessa. Andiamo a posizionarlo dove ci sono le intersezioni dei nostri terzi in maniera tale da rendere più potente la composizione. Ora qui non so neanche se ci sia un giusto o uno sbagliato, così non mi dispiace. Certo che questa vignettatura è proprio forte, quindi adesso la andiamo a ridurre. Il leone era proprio nel mezzo del nostro fotogramma, probabilmente per esigenze anche di messa a fuoco, quindi ci può anche stare. In questo caso, quando si fa natura, secondo me ci sta di cropparla dopo, lo dice anche chi fa molto più wildlife di me. Bisogna capire poi come ritagliarla, perché da questa parte, io posso anche ritagliarla così, però ci sono gli arbusti da questa parte che sono molto presenti e quasi un po' mi confondono. Bisogna scegliere se mettere il leone a destra o a sinistra. Io per questo chiedo il vostro aiuto. Voi il leone lo mettereste a destra o a sinistra? Questa è una cosa dove francamente un po' mi areno, nel senso che è una questione anche di gusto. Io non lo lascerei nel mezzo, lo andrei a croppare un pochino e lo metterei da una parte o dall'altra. Devo dire che per come è messo il leone mi piace di più tenerlo a sinistra, ma per via degli arbusti mi piace di più il crop mettendolo a destra, quindi sono molto indeciso. A questo punto vi chiedo, fatemi sapere nei commenti voi che cosa avreste fatto. Per quanto riguarda il crop mi rimane un po' il dubbio, ma tutte le altre scelte di post-produzione io le terrei così. Credo che così sia un'esposizione giusta, un colore giusto. Ho cercato anche di indovinare quali erano i colori presenti in scena, ma io chiaramente non c'ero. Magari era sera il crepuscolo, magari c'era tutt'altro mood. Io ho ricreato quella che reputo essere la luce del giorno in un ambiente simile. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se voi avreste fatto qualcosa di diverso. Se volete partecipare a questo format riguardatevi l'inizio del video perché ho già spiegato come si fa. A questo punto amici, vi ricordo come sempre di cliccare il bottone qui sotto per iscrivervi al canale così impareremo insieme delle altre cose su come fotografare grossi felini e non solo. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.